Salve, sono Simone Terzino di Terni, titolare dell'Angolo Divino. Sono venuto a fare questa esperienza con questi due chef stellati per arricchire il nostro bagaglio culturale e gastronomico. Ci interessa soprattutto questa seconda lezione con lo chef server perché siamo molto legati a quello che è la nostra terra, quindi il pesce di fiume e il pesce di lago. Molto interessante è stata anche l'altra lezione che mi ha arricchito sicuramente di qualche piccolo gruppo in cucina per quanto riguarda il pesce di mare.